Oh Augu fai partire No Nesco Uff Che scendata Guarda Vabbè Che lo fai Ho fatto sei a prima Ho fatto sei a prima Così, allora ragazze Mettendo la stasura su ebay Sempre sei partire prima Ok Vesco 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 I Quindi nel turno in cui lo riveli non puoi spaccartela, finchè è rivelato tu non puoi spaccare, neanche io posso spaccare le solite, nessuno deve spaccare le solite, e se mi ha attivato una carta posizionata mentre lui è rivelato, noi siamo speciali, se no vorrei capire la carta che non posso distruggertela, finchè è rivelato e resta rivelato fino alla tua è, ok va bene, va bene, una raie, una raie, faccio god, molestissimo god, quindi? Non lo faccio andare, posso giocare solo oscurità? Sì, sull'evocazione di raie, ah no, niente, sull'evocazione è un cazzo, picchi, picchi? Va bene, 1.500, tiro quel counter, ah no, questo è un extra, let's go, si vengono andando, il mio turno, torna normale, torna a fare un pesco, e te lo mostro, ok, poi c'è il petto e il grigione, si, spartolaio, ok, e il petto e il grigione, mando di posto, si, torna grosso, ok, puoi picchiare? Si, può fare quello che vuole lui, quindi è il golden order, 2.500 vai, va bene, e nende? Si, sette scalotti, quindi io non posso spaccartene? Non lo, penso che non lo evocherò mai, finché ci vuole, lo terrò per proteggere l'infinito, perché non è luce, eh vabbè, è buono comunque? Si, questo lavoro, posso, non può essere spaccato neanche lui, eh? Quando pensi di dirmelo? Potresti spaccare solo questa? Ma in che senso non posso spaccarlo? Eh, se lui è evocato verso il petto, fino alla fine del tuo turno è più mille, non può essere disfruttato. metto un monstre in coperto, un po' qua, 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 un po' qua. E vai. End, lo scarlet, lo tono, un end rispone. Si. Penso. Si, in risoluzione? Si. Ok. Lui è spaccabile assolutamente. E mi ricordo, le magia rapide, posso chivare? Certo, certo. Ah, l'hai appena settata, no? Appena settata, non lo vuoi. Eh, ho fatto. Il mio turno? Si. Esco, torna girato. Si. Mostro. Si. Posiziono, lui è tornato normale. No. Entro in coppia. Si. 2005. No. 2005. Lui è andata. In end, scusa, vanno scarlet. L'ho attivata nella tua end. No. 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 I skull. faccio patinendo vanno a lui per settare torna normale lui girato lui da giuse io scarlet anche da sì sì ma non è decoci mi faccio tutti sulla mia samba ti mostro questo setto e puoi andare and da buscarle setto un wakero non ce l'ho ah se vai vabbè se no faccio poco mio turno si gira si vuoi spaccare no pesco effetto del direzione da cimbi spacco conqueror torna grosso ti mostro mio fratello dentro imbatto a mina si è spaccata prima siamo senza mostri siamo senza mostri in campo a mina si è spaccata da quando potete allora la giocata è diversa allora torniamo indietro lui ha il cimbi e ho pescato una carta in più questa è qua allora turno mio evoco norma ok c'è sempre il direzione ha finito scusa faccio prigione è guerriero no guerriero vanno entrambe si ok torna girato pesco la carta f2 spacco torna grossa ti mostro lui io devo rileggere ciccione ce l'hai ziano posso rivelarlo solo nel mio turno il turno in cui lo rivelo non può essere il turno in cui lo specialo devono avvenire momenti separati se non te l'ho rivelato ce l'ho in mano e attivo una settata posso comunque specialarlo ma non settà lui setta mentre si evoca solo se era rivelato quindi solo nel turno in poche parole e anche altro mi hai messo in crisi forte forte a spacco a spacco si queste sono forte quindi io sono sono forte sono forte grazie grazie no 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 grazie 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 per la tua terra con terzo che ce l'ha beh io ma secondo me non l'ho sono nero no 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 non è vero ti dissocio in che senso è raffodonnato davanti a cosa Gaetano no no